Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, torna a parlare della grande vergogna degli alloggi popolari di Via Lazio a Montesilvano, di proprietà del comune di Pescara ma ubicati nel territorio di Montesilvano. Con due lettere indirizzate al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il consigliere pentastellato chiede di intervenire per risolvere quello che viene definito un caso di sicurezza e di ordine pubblico. Recentemente anche al centro di un'interrogazione a risposta scritta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Siamo tornati nuovamente qui in Via Lazio e stiamo denunciando cose vecchie ma anche nuove. Questo ricordiamo è un palazzo di proprietà del comune di Pescara che insiste sul territorio di Montesilvano. Ormai ad oggi sono quasi tutti abusivi, i cittadini onesti sono scappati, quindi possiamo dire che è un palazzo in mano ai clan, criminali, delinquenti, persone che spacciano droga. Ma voi immaginate che questi iniziano a mezzanotte a far baldoria tutte le sere, musica ad altissimo volume, i cittadini onesti non riescono più a vivere. Gettano sistematicamente spazzatura dai balconi, anche dal sesto piano e poi la bruciano, mettono fuoco, grandi falò. Non solo, all'interno abbiamo visto incuria diffusa per essere buoni, abbiamo visto cataste di immondizia. Qui c'è una ex piscina con una porta di delta completamente, all'interno ci sono montagne e montagne di rifiuti. Anche la struttura è a mio avviso pericolante perché non è una struttura che può essere degna di un palazzo popolare. Quindi che cosa chiediamo? Subito lo sgombero, lo sfratto di tutti gli occupanti abusivi, di riqualificare, riqualificare. Quindi l'appello forte all'amministrazione comunale di Pescara, in accordo con quella di Montesilvano, è veramente una delle più grandi vergogne nel centro cittadino. Non può stare così. I cittadini onesti delle villette che stanno qui a fianco ci chiamano ogni giorno, hanno paura. Paura di ritorsioni, paura di aggressioni, paura di violenze, perché qui ci sono personaggi squallidi, persone che fanno attività molto molto pericolose sulla vita dei poveri cittadini. Giovanni Bucci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Montesilvano. Il problema non è solo del comune di Montesilvano, è anche del comune di Pescara. Quindi l'auspicio è che i due comuni inizino a parlare, è il caso di dire inizino a parlare, perché qui si fanno soltanto uscite mediatiche, però poi alla fine in concreto non vediamo nulla di risolto. Il palazzo, oltre ad avere un degrado per incuria, è un degrado strutturale. Abbiamo visto ferri che escono fuori dal cemento armato e quindi la situazione del palazzo ammalorato deve un attimino far riflettere un po' tutti. Comune di Pescara e Comune di Montesilvano uniti.